Il film è composto da due parti. Prima parte, informazioni di base sull'animale. Parte seconda, i suoni dell'animale. Potete utilizzare i rumori in qualsiasi modo, dove volete, come volete. Completamente gratuito. Il gabbiano è un uccello che appartiene alla famiglia dei laridi. Questi uccelli sono noti per la loro adattabilità e presenza in numerosi ambienti, spesso vicini all'acqua. Conosciuti per il loro comportamento opportunistico, i gabbiani sono capaci di esplorare e sfruttare diverse fonti di cibo. I gabbiani presentano una lunghezza che varia da 54 a 68 cm e un peso che può andare dai 700 grammi a 1,5 kg. Hanno un'aspettativa di vita che varia notevolmente, da 12 a 49 anni, a seconda delle specie e delle condizioni ambientali. Questi uccelli hanno un piumaggio che di solito è bianco e grigio, con variazioni di nero, soprattutto sulle ali. I gabbiani si nutrono principalmente di pesci, crostacei e carogne, ma non disdegnano alimentarsi anche di rifiuti umani, rendendoli comuni nei pressi delle aree abitate. La loro dieta può includere inoltre insetti, piccoli uccelli e uova. Nonostante la loro abilità nel trovare cibo, i gabbiani possono cadere preda di rapaci più grandi come falchi e aquile. I gabbiani sono diffusi principalmente lungo le coste, sui clifi e nei porti marittimi. Tuttavia, la loro grande adattabilità li ha portati a colonizzare anche ambienti urbani, come parchi cittadini e discariche. Questi uccelli nidificano spesso in colonie, che possono trovarsi sia su isole isolate che su edifici in zone densamente popolate. La loro presenza è globale, spaziando dalle regioni temperate alle zone polari. la loro fortale è del journalism. Grazie a tutti. Grazie a tutti.